Ciao a tutti, bentornati nell'angolo di Silvia. Oggi, come leggerete dal titolo, parliamo di TBR. Io sono sempre stata solita, ogni mese, crearmi una lista di libri che volevo leggere, però puntualmente ogni volta non riuscivo mai a portare a termine questo elenco di libri, queste TBR, e ogni volta trovavo libri che mi ispiravano di più o che volevo maggiormente leggere. Quindi ho deciso di iniziare a fare delle TBR stagionali. Iniziamo proprio con la TBR autunnale, i libri che vorrei leggere per lo più tra fine settembre, ottobre e novembre, perché poi dicembre sarà completamente dedicato ai libri di Natale. Quindi ho selezionato 5-6 libri che vorrei tanto leggere in questo periodo, poi ovviamente se ne troverò altri li aggiungerò, però questi vorrei riuscire ad essere fedele e a leggerli appunto in questo mese autunnale. Partiamo subito con il primo libro che vorrei leggere. Vorrei tanto riuscire ad iniziare e terminare entro l'anno il primo libro della saga di J. Christophe, ovvero Nevernight, mai dimenticare. Questo è il libro primo degli accadimenti di Illuminotte. Ho visto e letto pareri molto molto positivi su questa serie di libri, e quindi sono davvero super super curiosa di affrontare, di avventurarmi in questa nuova storia. L'unica cosa che mi trattiene moltissimo è un po' la mole di questi libri. Sono molto molto imponenti, sono tantissime pagine, quindi il primo è quasi alle 500 e sicuramente non è un libro che riuscirò a portarmi in giro, perché io leggo molto spesso quando viaggio per andare al lavoro o quando faccio viaggi miei personali, io leggo molto e questo sicuramente è molto scomodo da portarsi dietro. Quindi sarà una lettura che probabilmente trascinerò durante questi mesi in alternanza a qualche altra lettura magari un po' più leggera e che riesco a portarmi in giro. Leggera intendo proprio di peso fisico, perché sicuramente se è una storia che mi prende sarà veramente molto molto divertente e bello avventurarmi sempre di più. Quindi questo è sicuramente un libro che vorrei leggere entro fine anno. Poi vorrei assolutamente leggere il secondo volume della The Puff in Iceland di Sarah Morgan, ovvero qualcosa di meraviglioso. Così poi finalmente a dicembre riesco a leggere il terzo volume, ovvero Natale a Puff in Iceland, che ormai è qua nella mia libreria da 3-4 anni, ma se non leggo quelli prima è anche inutile appunto leggere il terzo, quindi spero proprio di riuscire a leggerlo, no, devo leggerlo, così poi a Natale leggo il terzo. Sarah Morgan mi piace davvero tantissimo, è una spettrice molto calda, molto sentimentale, molto delicata e racconta storie di più personaggi, di famiglie, e mi piace moltissimo il suo stile e appunto non vedo l'ora di leggerlo, anche se diciamo che forse più che nella TBR autunnale dovevo inserirla nella TBR estiva, ma non sono riuscita in tempo a leggerlo, quindi dai, spero di farcela adesso. Poi vorrei tanto finalmente terminare la serie The Selection di Kira Cass, perché mi mancano due volumi, ovvero The Hare e The Crone, e qui se ho capito bene dovrebbe raccontare le avventure della figlia di America e del principe Maxon, e la selezione dal punto di vista femminile, sono molto curiosa, la trilogia mi era piaciuta davvero tantissimo, poi avevo iniziato anche le novelle a dir la verità, mi avevano un po' annoiato, però conto di riprendere in mano anche quel libro lì, e ora vorrei tanto terminare. Un elogio particolare va anche alle copertine, perché sono meravigliose, cioè veramente sono un qualcosa di bellissimo, e quindi appunto conto di terminare finalmente anche questa duologia, così da completare il giro di The Selection. Poi voglio andare avanti con un libro della amata Jennifer Armentraut, questo è l'ultimo che mi ha regalato mia sorella, che è anche uscito, ovvero Amarti è solo l'inizio, e verrebbe di seguito a Complice la Neve, che ho letto l'anno scorso. Armentraut è la mia scrittrice straniera preferita, voi lo sapete, quindi sono super super entusiasta di leggere un nuovo suo romanzo, ma non è l'unico che ho messo in TBR, perché ho messo in TBR anche il primo volume della Covenant Series, ovvero Tra Due Mondi. Sono davvero super super curiosa di affrontare questa nuova avventura, mi stuzzica davvero tantissimo. Io per il momento ho tre, tre, sì, tre numeri, tre volumi di questa serie, però non mi ricordo bene quanti sono, anche perché dopo vorrei tanto andare ad immergermi nella Titan Series e quindi leggerli un po' tutti di seguito. Se voi ovviamente le avete già letti, fatemi sapere cosa ve ne pare qua sotto, io non vedo l'ora. Per finire la TBR autunnale ho aggiunto anche la novella di Erin Watt, Paper Crone, della serie The Royals, dove qui finalmente parliamo di Gideon. La serie Paper Prince, Paper Princess mi era piaciuta abbastanza, è stato un po' un'altalena, alcuni volumi molto belli, alcuni volumi non mi sono piaciuti molto. Volevo concludere il cerchio appunto con la novella, visto che è l'unico fratello che appunto non viene raccontato nello specifico dai libri, sono molto curiosa, deve essere comunque una lettura molto veloce, per staccare un po' l'ho voluto aggiungere. E poi in conclusione ho aggiunto anche una graphic novel, perché ho un sacco di graphic novel della Bao da leggere, io le continuo a prendere perché sono dei piccoli gioiellini, però alla fine in realtà mi perdo sempre via e non li leggo. Mi sono ripromessa di riuscire a leggerne almeno uno al mese. E voglio iniziare questa avventura con Il Principe e la Sarta di Jen Wong, deve essere una storia meravigliosa. Innanzitutto mi piacciono tantissimo le tavole che sono molto calde, con questi colori abbastanza accesi, però molto caldi e la storia deve essere molto bella. Abbiamo questa sarta che diventerà amica di questo principe, è una storia LGBT, perché il principe comunque è gay e lei li cucirà appunto i vestiti, diventerà la sua sarta e lui deciderà di vestire in modo non convenzionale. Quindi è una storia secondo me molto molto bella, molto anche con tematiche odierne dei giorni d'oggi. Quindi se voi l'avete già letto, ovviamente scrivetemi qua sotto. Questi sono i libri che ho messo in TBR, io spero proprio di riuscire a leggerli tutti, o perlomeno la metà, super giù, io mi impegnerò. Se mi piace questa tipologia di video e la volete vedere anche per le prossime stagioni, lasciatemi un like, un po' l'ecenso di supporto, iscrivetevi al canale, attivate il campanellino così non vi perderete i prossimi video. Ovviamente qua sotto vi lascio il link diretto a Amazon per se volete acquistare i libri che vi ho citato, non pagherete un sovrapprezzo, ma io riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a mantenere il canale e Instagram. A proposito di Instagram, se vi fa piacere seguitemi anche lì, la libreria di Silvia e ho già pubblicato un video dedicato proprio al TBR autunnale e anche qualche consiglio di libri da leggere in autunno. Nulla, trovate qua sotto anche il resto dei miei social, il link di Paypal se volete fare una donazione al canale e noi ci vediamo qui con un prossimo video. Ciao a tutti!